perfetto ci siamo ok il webinar credo sia stato anche avviato ok vedo i partecipanti che entrano magnifico ci siamo allora buonasera a tutti ben trovati allora questa sera ho io il piacere di aprire il webinar a il prof da so che molti chiamano il prof massimo rea abbiamo oggi qui in casa tic mil sono contento un webinar che ho chiesto esplicitamente di poter seguire io in prima linea perché merita attenzione fa davvero un grande lavoro massimo ti seguo anche io quindi meritevole ovviamente di essere seguito con attenzione mi rubo non più di un paio di minutini per la lettura del disclaimer quindi faccio un po il lavoro sporco e poi passo la palla a massimo e così lo ascoltiamo allora questa sera 15 novembre 2023 analisi della liquidità come ottenere un vantaggio statistico allora i cfd sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 73 per cento dei conti dei clienti al dettaglio di tic mil europe ltd perde denaro facendo trading con i cfd valuta se comprendi come funziona in i cfd e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro i contenuti di questo materiale didattico sono offerte da terze parti e non da tic mil e hanno carattere puramente educativo e non costituiscono alcun incentivo di investimento chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori tic mil non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di tic mil a meno che non sia stato specificato qui un po di contenuti per capire il broker che oggi mi onoro di rappresentare tic mil broker globale multiregolamentato fondi assicurati garantiti fino a 20 mila euro si può lavorare su la maggioranza quasi la totalità degli asset class forex metalli azioni cripto anche il mondo obbligazioni e small exchange non ci sono commissioni swap sulle cripto notturne non solo mondo cfd ma si può lavorare anche con future ed opzioni quindi decisamente un marchio di garanzia future e opzioni abbiamo piattaforme mt4 mt5 cqg e api connection quindi decisamente tutto un panorama di opzioni abbiamo tre possibilità di conti conto pro classic e vip in base alle vostre esigenze per il mondo cfd con depositi a partire da soli 100 euro conti future ovviamente attraverso piattaforma cqg con commissioni da 85 centesimi a salire abbiamo ovviamente unica sede sede unica registrata con sob quindi marchio ulteriore di garanzia spread tra i più bassi che potete trovare in circolazione su euro dollaro a partire da 0 40 potete fare un po' di indagini anche al sito my facebook che vi mette in luce i partner e i concorrenti ovviamente per il conto pro parliamo di 4 euro runner per il conto vip di 2 di norma si va ad avere un risparmio tra il 33 e il 66 per cento circa rispetto ai costi degli altri broker concorrenti detto tutto ciò fatto il lavoro sporco passo la palla e la parola al nostro ospite ciao massimo buonasera salvatore buonasera a tutti i nostri spettatori ok allora tolgo la condivisione e lascio anche il monitor vediamo se funziona tutto si prova a condividere io vai magnifico ok perfetto vedo proprio al tuo lavoro anche io anche io ti seguo sempre le tue analisi tutti i giorni su sul canale ufficiale di tic mil grazie sì sì facciamo un bel lavorone ci cerchiamo di fare del nostro meglio insomma siamo siamo tutti attivi sono momenti concitati questi sui mercati allora io parto allora così iniziamo facciamo vedere un po di di del lavoro che porterò oggi qui quindi i miei studi eh io con tic mila ho il piacere di rivedermi già ci vediamo quasi ogni anno ci siamo già visti anche l'anno scorso con tic mila abbiamo fatto un bel webinar c'era anche giuseppe quella volta e eh oggi lavoriamo su un ramo di ciò che avevo fatto vedere l'anno scorso che era analisi volumetrica e quindi che è uno studio della liquidità che io porto avanti oggi andiamo a vedere un altro dei rami che comporta per l'appunto lo studio della liquidità per quanto mi riguarda la liquidità è ciò che muove i mercati molti di noi sappiamo benissimo che non siamo noi pesciolini piccoli a muovere il mercato ma bensì sono le grandi entità che sono e hanno la capacità di spostare veramente il mercato e quando noi andiamo a identificare questa liquidità che adesso vi mostrerò sui grafici eh possiamo avere ovviamente un vantaggio statistico essere un po' come i pesciolini che seguono lo squalo che mangia le prede grosse noi mangiamo eh i resti mettiamola così quindi noi nonostante siamo la più grande fetta dei mercati non siamo in grado di metterci tra l'altro d'accordo eventualmente per smuovere eh la quantità di denaro che viene iniettata dall'istituzionale allora gli istituzionali sono sempre nell'occhio del ciclone molti di voi magari avranno anche letto e chi mi segue anche sul canale sa che eh JP Morgan e non solo JP Morgan sono state spesso accusate di manipolare i mercati vengono multate molte volte queste notizie non passano un po' in sordina ma per me hanno una grande valenza per farci capire che JP Morgan per esempio fu multata di quindici mila eh quindici milioni eh di dollari per manipolazione in quel caso di spoofing sappiamo che è un'attività che magari chi non conosce eh un'attività illegale che viene eh veniva attuata adesso ovviamente non non è non è più consentito non è neanche più consigliabile per l'istituzionale fare ciò però ci hanno tra virgolette marciato e dire ciò significa che per me non solo perché non abbiamo ancora questo tipo di manipolazione non vuol dire che non ce ne siano e quindi oggi andiamo a vedere un po' di manipolazione che possono presentarsi sui mercati allora io vi voglio solo ricordare cosa avevo mostrato per farvi capire dove arriverò oggi con il discorso di come vi avevo fatto vedere il crollo del eh S&P nella nella dot com bubble e come ogni volta che abbiamo visto i POC i massimi volumi del volume profile in questo caso si parlava allora come ogni volta il prezzo reagisce a ogni volta a ogni punta che viene toccata allora vi feci vedere come affrontare eventualmente questa crisi che ogni punta dai massimi volumi dava una reazione oggi vi faccio vedere invece la crisi del eh Nasdaq non utilizzando il volume profile utilizziamo un altro strumento io vado ad identificare le eh aree liquide eh dove c'è più battaglia per me sul grafico dove c'è più battaglia sono esattamente dove ci sono stati più spike ora per chi non sa magari che cosa sono gli spike sono questi belle linee dove sono al di fuori del corpo delle candele che sono le aree in cui vengono più combattute perché il prezzo in quel punto cerca di tenere quel livello e non perderlo quindi per me sono le aree più combattute quindi io come vado ad identificare queste aree combattute per esempio nel crollo per l'appunto del duemila che fu quello più disastroso per il Nasdaq che perse un 80 circa per cento vado ad identificare nella parte della Burran dove sono le aree più combattute quindi parto dal primo punto il primo punto quindi qual è andare a cercare le aree più combattute come vedete qua abbiamo un'area di questi tre minimi qui che sono combattuti e metterò un rettangolo alle chiusure delle candele quindi apertura e chiusure volendo posso anche metterla sopra perché c'è una confluenza però quando sono così vicine per me è tutto un'area da osservare non ha senso osservare sotto o sopra ma comunque è un'area combattuta se andiamo a vedere un'altra area combattuta e vi faccio notare che qui abbiamo avuto una confluenza ora vi spiego che intendo io con confluenza abbiamo avuto in questo top una lotta come vedete per tenere il livello fino a che non viene rotto e poi viene tenuto come supporto un classico breakout e un ritest da analisi tecnica basica a basica e vi faccio anche notare che ne abbiamo anche sopra un po' di liquidità quindi abbiamo anche qui sopra un po' di lotta come potete notare e in questo momento io da specificare ho identificato le aree più combattute dopo di che vado a cercare le confluenze le confluenze sono per l'appunto queste che mi ha fatto vedere prima che ho confluenza sia nella nei top precedenti che nei bottom precedenti qui non abbiamo confluenze purtroppo però sono aree combattute indubbiamente terzo punto vado a identificare a diversi time frame come mi comporta come mi comporta diversi time frame io voglio che questi rettangolini si vedano a tutti i livelli più bassi non mai il contrario che vuol dire che se io per adesso per esempio mi sposto su una settimanale candele settimanali e metto le aree liquide settimanali per esempio queste qua sotto che sono molto combattute le cambio di colore così si riconosce questo rettangolo se io ritorno sul mensile non si deve vedere perché non si deve vedere perché per quanto riguarda la mia il mio approccio alle analisi i time frame più alti sono quelli che comandano e devo conoscere ciò che succede sotto solo se mi sposto a time frame più bassi mentre a time frame più bassi come nel weekly devo sapere dove sono le aree mensili o nel caso trimestrali eccetera vi faccio vedere come si è comportato il nasdaq a queste aree intanto mentre crollava così iniziamo a capire come ci si comporta e andiamo poi al terzo punto le aree vergine vi faccio vedere andiamo a fare una una simulazione trading view ci permette di fare una simulazione come vedete siamo andati nella prima area liquida e c'è stata già una reazione la candela già è a reagire esattamente come vi ho fatto vedere nel vecchio webinar con i volumi però in quel caso questa volta stiamo utilizzando invece soltanto aree liquide combattute faccio vedere che poi è salito anche un bel po poi ritorno giù e vi faccio notare che abbiamo avuto un'altra reazione qui nell'area più combattuta andiamo a vedere adesso che cosa fa tornerà probabilmente verso quegli altri li userà come riteste da sotto e poi vediamo quest'ultimo livello che credo sia il bottom altrimenti devo andare a prendere altri livelli più bassi e come vedete anche qui un livello combattuto soprattutto questo in confluenza che sono tra i più forti a mio avviso ha dato di nuovo una reazione come possiamo notare quindi identificare per me le aree dove sono dove sono state più lotte io le chiamo liquidità ovviamente perché per quanto mi riguarda gli spike sono esattamente il motivo per cui questa price action qui non è riuscita a passare perché qui i sellers facevano come a bud spencer davano i cazzotti in testa e facevano tornare giù il prezzo fino a che ce l'hanno fatta e poi non sono tornati di nuovo all'attacco e ci sono riusciti quindi queste sono le aree che per me hanno più valenza da andare ad osservare poi come come vi faccio notare non osservo i massimi minimi spesso l'analisi tecnica quella di marfi ci fa sempre notare che un breakout per noi è quando rompiamo dei massimi per me un breakout non è identificato dalla rottura di un massimo ma identificato da una rottura di una candela che entra nell'area liquida al momento in cui una candela è entrata nell'area liquida per me quella è un breakout non mi basta che superi i massimi cioè nel senso se una candela avesse chiuso così in questo modo per me era comunque un breakout nonostante non avesse rotto effettivamente i massimi perché per quanto mi riguarda l'area più importante è entrare qui dentro una volta che noi siamo riusciti a combattere questi e siamo riusciti a entrarci per me quella la lotta è stata fatta il primo il primo traguardo è stato fatto poi io aspetto sempre un ritest come è successo qui nel caso in cui avessi voluto fare questo long non entro mai al breakout io sono un conservativo entro ai ritest quindi questo era il primo approccio che vi volevo far vedere come io identifico le aree liquide ora non vi ho enunciato ancora che cos'è per me un'area vergine o meno un'area vergine per me è un'area che come in questo caso che era vi mostro che cosa intendo qui si è creata un'area poi viene rotta e quando viene ritestata dalla direzione opposta per me quell'area viene definita vergine quando passa del tempo soprattutto se passa molto tempo quell'area per me ancora vergine non lo è più nel caso in cui ha un atteggiamento come questo se il prezzo avesse stazionato qui quest'area non era più vergine perché veniva molteplici volte testata al momento in cui quell'area che ha sancido il cambio di trend viene ritestato per me quella è un'area da osservare da approfittare vi faccio vedere la stessa cosa come è successo con il DAX per esempio il DAX in queste ultime fasi lo sanno bene coloro che magari mi seguono sul mio canale youtube abbiamo avuto varie aree liquide ve le evidenzio così vi faccio vedere di che cosa parliamo parliamo intanto di quest'area qui che è un'area settimanale che anche un analista tecnico semplice lo vedrebbe no questo era tra virgolette anche un test spalle questo è un semplice ritest e vi faccio notare che il DAX metto altre aree liquide così vado a completare tutto il percorso qui c'è confluenza di aree liquide vi faccio notare anche che qui c'è confluenza di aree liquide quindi sfrutterò anche queste qua sotto e andranno a confluire anche con questa quindi queste sono le aree per esempio che io osserverei del DAX qui ce n'ho anche una ma è da sola non c'è confluenza quando c'è confluenza per me hanno molta più valenza però questa la evidenziamo pur essendo sola nel senso non ho altri tocchi allo stesso medesimo livello come vedete non sto tenendo conto dei massimi né dei minimi non mi interessa allora faccio una simulazione vi faccio vedere che qua la reazione già subito a questo livello di liquidità ci ha riportati con la candela settimanale da qui fino a qua sopra e dove ha usato questa liquidità non ha usato come vedete i minimi è entrato nella liquidità e poi è tornato giù qui abbiamo messo un dito nella liquidità e siamo ripartiti come potete notare non ha usato un massimo di questi come generalmente eh l'analisi tecnica basica vecchia diciamo quella da libro eh da più valenza per me a valenza quando entriamo a contatto con l'area vicino alle chiusure dove si è svolta la maggiore battaglia e se facciamo un'altra un'altra simulazione questo è adesso arrivato fino ad oggi e vi faccio vedere che tra un po il DAX dovrà affrontare questi signori qua sopra quindi questi saranno il peggior nemico prossimamente per il DAX si verrà a mettere un dito qui ovviamente quindi il prossimo livello che io osserverò per il DAX per esempio è questo qui eh vi faccio vedere anche oggi vi faccio vedere un po' su azionario vi faccio vedere su crypto vi faccio vedere su eh forex quindi andiamo a vedere su tutti gli asset per vedere la valenza di quello che io vi sto mostrando eh eh andiamo sul su Amazon per esempio Amazon è stata molto regolare molto precisa vi prendo questa liquidità qua sotto che è semplice da da vedere come vedete metto un rettangolo vicino alle chiusure escludo gli spike cioè i minimi non mi interessano stessa cosa anche qui qui sotto poi ne ho un altro anche sotto qui molto sentito e ne ho un'altra liquidità qua sotto tre spike belli che sono state anche già toccate tra tra l'altro mi sposto su weekly così vediamo le candele molto meglio e vado con la simulazione e come vedete questo è il primo tocco della primaria liquida mensile e abbiamo avuto già una reazione adesso lì stazionerà un po' poi verrà sopra e userà quella mensile di nuovo appena l'ha toccata come potete notare siamo tornati giù vi faccio vedere il seguito ne abbiamo un'altra mensile qua sotto che avevo detto prima ecco il primo tocco come vedete ha dato subito una reazione siamo andati subito all'altra sopra e vado avanti adesso non ricordo se toccherà questa sorta ma non mi sembra così vediamo fino alla fine che cosa è successo no non tornerà giù tornerà di nuovo al mensile qui ora qui io sto facendo la simulazione ma non ho aggiunto le altre altre liquide avrei dovuto mettere questo questo settimanale qui che è in confluenza tra l'altro ve lo faccio notare cambio colore vi faccio notare che questi che erano molto liquidi insieme a questi hanno dato questa reazione qui e andiamo avanti e poi penso che adesso tornerà qui e sarà oggi questa è l'attuale oggi ok questo era il euro stocks andiamo a vedere adesso invece il scusate quella era amazon andiamo a vedere euro stocks allora molti di voi sanno che per chi mi segue già da un po' magari nell'ultimo webinar con ticmil non l'ho fatto vedere però con l'identificazione dei volumi che abbiamo fatto vedere altre volte potevamo identificare i bottom dell'euro stocks quando ci fu la correzione del 2022 come anche del dax con i volumi come anche di amazon che abbiamo visto prima che prima abbiamo utilizzato soltanto le aree liquide ok i rettangoli per identificare tutti questi livelli ma se io avessi usato i volumi che avete visto nel vecchio webinar sempre con ticmil qui avremmo potuto avremmo potuto identificare esattamente il bottom come anche per google il POC maestro fu esattamente il bottom come anche per microsoft che fu millimetrico tra l'altro esattamente al bottom e anche il crollo covid abbiamo identificato con il POC maestro come anche per bitcoin che dopo andremo a vedere una simulazione anche con bitcoin quindi tornando all'euro stocks oltre a farvi vedere come l'identificazione di questi bottom con i volumi volume profile era identificabile adesso andiamo a vedere come ci saremo come ci comportiamo ad oggi osservando la price action attuale quindi adesso farò un'analisi mista tra le aree liquide e quella volumetrica allora andando a identificare le aree liquide io posso già mostrare che qui abbiamo confluenza come vedete qua non sono molto ben allineati sono un po' frastagliati quindi cerco di allinearli se c'è qualcosa nel futuro che è in confluenza qui abbiamo un'altra area liquida qui sotto ce n'è una da sola qui sopra che la tengo conto sempre anche se da sola non è in confluenza come queste qua ce ne sono molto più candele che hanno lottato qui qui solo tre candele hanno lottato andiamo a vedere queste aree liquide come hanno interagito con l'euro stock se guardate al primo tocco già ora ho dimenticato di mettere anche questi qua sotto che altrimenti se avessi messo questi qua sotto vi farrei notare che appena toccato questo con la candela successiva siamo andati a toccare l'area liquida qua sotto torna giù quindi questo rispetto al primo concetto che vi ho insegnato qui della identificare le aree vergini non è più vergine quindi questo è stato usato quindi questo è il secondo attacco non è più vergine ci sono strategie anche per i secondi i secondi tocchi terzi tocchi ma oggi mi concentro solo sulle aree vergini con il primo tocco andiamo avanti con la simulazione vi faccio vedere che cosa è successo successivamente e mi fermo un attimo poi è finito ok siamo entrati nell'area liquida qui questa è quella da sola e da qui è ripartito l'euro stocks ora chi sta affrontando per capire l'euro stocks che cosa deve affrontare nel prossimo futuro nel prossimo futuro l'euro stocks sta affrontando intanto questa liquidità qua quindi tra due giorni che chiuderà questa settimana sapremo se questa liquidità verrà difesa o meno vi dico un'altra cosa che in confluenza con questo poc con questo con questa liquidità abbiamo anche il poc maestro esattamente esattamente sopra la testa quindi in questo momento l'euro stocks affrontando due dei suoi peggiori nemici nemici la liquidità e il poc quindi potenzialmente nei prossimi giorni potremmo vedere una correzione non dico crollo non è non è non è identificabile ancora potrebbe anche stazionare ancora per qualche settimana qui come fatto qui come ha fatto qui per due settimane prima di prendere una direzione comunque questa è un'area molto importante in questo preciso istante per l'euro stocks adesso vi faccio vedere una simulazione che ho fatto vedere solo investi in roma forse qualche studente l'avrà visto ma probabilmente sarà sconosciuta a molti questa simulazione solo con i volumi in questo caso e poi vi faccio vedere solo con le aree liquide allora bitcoin quando ci fu i famosi 69 e iniziò a ritracciare questo lo sanno un po tutti perché l'ho fatto vedere probabilmente anche il vecchio webinar con tick mill fece una reazione a questo po qui ok poi quando sale la prima cosa che vado a identificare visto che comunque è stato salvato chi è il mio peggior nemico al momento in cui vado a cercare di conquistare nuovi massimi il mio peggior nemico o per lo meno per bitcoin il suo peggior nemico in quel momento era questo qui vado a fare una simulazione continuare la simulazione vi faccio vedere oltre a infatti viene a ritestare questo però poi tornerà lì e quello è l'ultimo livello che bitcoin ha visto così alto nel 2022 da qui inizia a rompere tutto e come ci si comportava in quest'area vi faccio vedere livello per livello come io mi sono comportato saluto intanto i ragazzi che stanno arrivando e buonasera ragazzi vedo che siete tanti amici siete qui con noi oggi allora ho identico sono andato ad analizzare con i volumi solo la price action della salita ok ho escluso le aree di lateralità che sono queste quindi ho analizzato solo le aree della salita in questo caso identifico un primo volume qui questo è piccolino quindi lo trascuro identifico un'altra punta qui la metto un po' più doppia così si vedano meglio e poi qui ci sono due punte una vicino all'altra generalmente quando sono così io la metto come un'area per identificarle meglio ok che cosa fa bitcoin a questi livelli andiamo a vedere ecco qua primo tocco e come vedete un long qua ci avrebbe dato profitto ora sta salendo quindi dov'è il suo peggior nemico è in questa discesa qui andiamo a identificare dove sono i soldi istituzionali ovviamente che dovrà affrontare in questo caso adesso puoi rispondere a vostre domande ragazzi non diamo pazienza vi faccio vedere un po' di simulazione poi vengo da voi allora questo è il suo peggior nemico tra l'altro in confluenza con area liquida come potete notare con una bella lotta qua sopra di aree liquide la mettiamo anche questa e andiamo avanti con la simulazione ok non arriverà qua vi dico già perché poi arriverà ftx e lo porterà più in basso vediamo come si è comportato e come potete notare ancora una volta questo è il volume che lo ha salvato andiamo avanti mi fermo un attimo che faccio notare un'altra area liquida che ha dato una reazione questa qui che ha dato una reazione ben ben definita qui e qui e adesso tentiamo l'attacco di questi e come potete notare ancora una volta sono loro a comandare e riportano giù piccoli e poi qui un po questo che dovrebbe essere un po più così questa è la prima area liquida che affronterà questa è un'area adesso che qui si è creata confluenza rottura quindi quando ci tornerà sarà vergine sarà un'area buona da approfittare infatti è un'area che io e i miei clienti abbiamo usato e poi torno all'attacco di questo livello mi fermo un secondo vi faccio notare adesso altre cose mettiamo altre aree liquide come questa che era perfetta per entrare short qui come potete notare poi qua ce n'è un'altra questa vi dico già che l'ha distrutta anche perché quando sono così vicine per me è tutta un'area non la considero due aree poi ce n'è un'altra area liquida qui sotto guardate quanti spike qui e poi ce n'è un'altra che è molto liquida ops ho sbagliato strumento con quattro candele qua ce n'è due da sole la mettiamo per osservare ma questa è la più importante a mio avviso e vediamo bitcoin come si è comportato da qui in poi ok come potete notare queste le ha distrutte perché non sono più vergi soprattutto la prima la prima non era più vergine la seconda che è in confluenza per me è vicina quindi quando sono così vicine per me è tutta un'area e questa qui ha dato una reazione come potete notare ma non ha dato una direzione cioè non ha fatto una correzione quindi questa per esempio avremmo preso degli stop se avessimo fatto il short questo ovviamente per dimostrarvi che non esiste niente che funziona sempre soprattutto quando si innescano fase euforiche in queste fasi con bitcoin che è alle porte una possibile approvazione degli etf qui invece la forza si stava savorendo quindi è riuscito a fermarlo questo livello e anche quest'area liquida vi avrebbe dato comunque un'operazione di rimbalzo come vedete appena toccato una versione che l'avrebbe dato e anche questa guardate la candela fin dove è arrivata l'operazione short c'era ok e questo è attualmente bitcoin oggi quindi i prossimi livelli vi dico già e anche se chi mi segue già sul mio canale youtube sa bene che sopra la testa attualmente avrà il suo peggior nemico ve lo faccio vedere che è questo signore qua questo sarà per il momento il suo peggior nemico allora quando vedete questa punta così larga per me anche se la punta è qui su l'area più importante è tutta questa quindi io evidenzio già mente se è molto a punta come qui è molto a punta va bene prendere solo il poc quando c'è un'area larga punta come questa e c'è soltanto un livello che è molto più lungo degli altri per me è tutto il livello che è importante non solo il poc per chi non sa che cos'è il poc chiedo scusa che magari qualcuno non aveva seguito il webinar precedente con ticmil un poc è un point of control point of control punto di controllo il punto in cui sono stati inseriti i massimi ordini ok questa era bitcoin ora andiamo a studiare euro dollaro quindi per farvi vedere anche come ci si comportava su euro dollaro allora le domande più comune che io mi faccio che ci si fa un po tutti con il forex sappiamo che è un mercato over the counter ok otc quindi non esiste un server centrale che smista le operazioni ma ci sono varie entità quindi non è una come l'ise o come il nasdaq che sono delle entità centrali server centrali che hanno comunque un afflusso tutto lì per il forex ovviamente non c'è questo quindi il dubbio sui volumi ce l'hanno tutti io per districare sempre a questa per districare questa domanda faccio una cosa molto semplice quello che faccio da sempre come vi ho fatto vedere anche in questo momento faccio backtesting e quando trovo confluenze e quando trovo validità in quello che trovo allora lo sfrutto altrimenti no euro dollaro perché si è fermato qui non ci sono resistenze valide a mio avviso se avessi dovuto guardare le resistenze potenzialmente avrei guardato qua sotto se si fosse fermato qui non è che abbiamo una grande confluenza di resistenze se non magari sopra la testa qui ok qua sotto c'era una resistenza ma l'ha rotta quindi perché si è fermato qui euro dollaro e ve lo mostro il motivo per cui euro dollaro si è fermato lì è lui preciso millimetrico come potete notare poi l'altra domanda perché si è fermato qui ok che qui potevamo trovare un supporto e quindi c'era supporto quindi già uno già poteva dargli valenza a questo supporto ma c'è sempre un altro motivo dietro per cui euro dollaro si è fermato lì ed ora qui la candela dove si sta fermando adesso perché si è fermata qui e ve lo faccio vedere un'altra volta ed è dove siamo entrati short oggi con i miei ragazzi dov'è che si è fermata euro dollaro ancora una volta qui quindi come potete notare riuscire a identificare esattamente dove sono i volumi dove sono i livelli istituzionali a mio avviso ci danno un grazie ora voi mi vedete molto pratico nell'utilizzare volume profile perché io so esattamente da dove partire e dove terminare ed è proprio quello che insegno quindi se voi aggiungete price action che non vanno aggiunte ok o price action che non vanno aggiunte rispetto a dove si trova il prezzo vi viene tutta un'altra cosa vi faccio vedere come non andrebbe analizzato se io faccio così il box si sposta sotto ora comparirà ok e tra l'altro anche questa era un'operazione buona da farsi come vedete c'era un altro short qui e perché è uscito sotto perché io ho incluso price action che qua sopra non mi serve analizzare se io devo analizzare ciò che succede qua sopra io devo prendere la price action che è in quell'area che voglio trovare il massimo volume quindi mettere questa price action qua sotto mi invalida il POC il POC non me lo mette dove deve essere ma me lo mette qua sotto perché giustamente questa price action ha innescato questo quindi questa price action io la devo escludere dall'analisi quindi in quel modo faccio tolgo quest'area fin dove si trova il prezzo attuale e saprò chi è il responsabile di questa correzione stessa cosa è successo con la sterlina faccio vedere anche qui gli stessi livelli qui perché si è fermato sterlina dollaro chi è responsabile lui qui perché è ripartito ovviamente sappiamo che molto speculare la sterlina con euro dollaro è responsabile indoviniamo indovinate un po dove sono long io qui e qui ovviamente chi è responsabile ciao mauro e abbiamo un altro pochetto qua qua forse è un po più basso se non ricordo male invece infatti qui il POC non ci avrebbe aiutato ci avrebbe aiutato a questo ingresso qui a questo spike qua sotto in questo caso qua avrei utilizzato un'altra strategia o guardando il massimo accuno come vedete quando sono molto a punta vi faccio notare che quando sono molto a punta la parte di punta li do molto più peso a quando il volume è lungo più o meno pari o uguale quindi quando ci sono tante punte simile diventa molto largo gonfio diventa come una domodossola diciamo per me va osservato tutto il volume quando invece sono molto a punta io già so che quando tornerà qui io avrò una probabilità dell'ottantanove per cento che mi regali una reazione attenti reazione non vuol dire direzione reazione vuol dire che può sbattere tornare un po giù e può continuare a salire direzione per me è questo ovviamente ok quindi faccio una grande distinzione io tra reazione e direzione allora questa era la sterlina poi volevo far vedere ho ancora tempo spero di sì 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 vai vai Massimo sì ancora una ventina di minuti se ti va sì 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 allora volevo far vedere dov'è andiamo a vedere un attimo attualmente il Nasdaq e l'S&P che non li abbiamo ancora guardati allora torniamo alle aree liquide e vi faccio notare questi massimi qua sopra qui sopra abbiamo questa è in solitaria là sopra ma c'è questa che è molto in confluenza e poi abbiamo questa liquidità qua quindi io già vi so dire che prossimamente quando Nasdaq tornerà qui sarò pronto perché queste sono vergine lo sono anche da tantissimo tempo perché è passato vediamo un attimo un'analisi vediamo quanto tempo è passato 399 bar quindi 99 settimane è passato un bel po' di tempo quindi stiamo parlando di dicembre 2021 dicembre praticamente 2023 due anni quasi quindi questa è la prima area che osserverò attualmente sta affrontando come potete notare l'ultima liquidità dei massimi di questa ultima ripartenza qui e in questo momento qui se ci abbassiamo il time frame abbiamo anche un ultimo daily abbiamo un ultimo daily che sta dando una reazione in questo momento quindi questi sono gli attuali livelli che sto osservando io per adesso mi sono mi sono fermato su mensile weekly se andiamo ad abbassarci di time frame dovete dovete cercare soprattutto confluenze con i time frame alti e vi spiego che cosa intendo questo è un daily allora qua siamo su un daily ho trovato un'area liquida ok vado in h4 se il rettangolo dell'h4 coincida all'interno del daily ho una confluenza quindi tornando al discorso iniziale devo trovare le confluenze sia a livello di prezzo sia a livello di time frame più rettangoli ho all'interno nella stessa area di prezzo più quel livello è sentito e forte se è distaccato come in questo caso dove l'h4 è più alto del daily sono molto più conservativo ok quando invece mi ritrovo come per esempio qui c'è un rettangolo rosa che sono i miei settimanali e do all'interno un h4 in questo caso un h4 questo è un livello buono da osservare infatti se voi andate a guardare la prima candela che ha toccato ha dato una reazione ok quindi la prima candela quando è soprattutto verge non aria la reazione ce la regala quasi sempre all'89 per cento come ho detto prima e adesso qui stiamo affrontando invece due aree non allineate però sono due aree vicine se fosse stato l'h4 dentro sarei stato più confidente a una possibile correzione in questo caso qui vado sempre a notare anche altri time frame per esempio se andiamo a vedere anche l'h1 vediamo se è in confluenza con uno del daily o se è in confluenza con l'h4 e neanche l'h1 è in confluenza l'h1 è un po' più alto ok quindi ho preso le chiusure dell'h1 dell'ultimo h1 e neanche questo è allineato agli altri se tutti questi rettangoli neri blu e giallo fossero stati uno dentro l'altro sapevo che c'era una confluenza quindi grande forza del prezzo in questo caso grande forza di resistenza scusate ho detto una cavolata ok comunque come potete notare qualunque dei livelli io avessi usato qui dentro per farmi uno short sarei andato comunque in profitto ok ora vi faccio un ultimo regalo alla community che oggi è qui con noi e vi parlo delle aree liquide di range ok quando iniziamo a creare aree di top o aree di bottom si creano sempre delle aree di range dove si creano rounding dove si creano test spalle eccetera eccetera chiamateli come vi pare in base a come voi analizzate o flag ok quindi a seconda di che tipo di voi analizzate voi fate c'è sempre un'area di range se si sta creando un top la parte più forte di un'area di range è l'ultima liquidità dopo un'inefficienza per chi non sa che cos'è un'inefficienza per me è un mercato efficiente è un mercato che fa così se un mercato fa come ha fatto qui ve lo disegno prima e fa questo quindi esce fuori da una media di impulsi e ritracciamenti che ha normalmente ed esce fuori dalla media di accelerazione mettiamo con una volatilità più alta quell'area cioè quest'area qui per me è un'area inefficiente come quest'area qui quindi come mi comporto quando identifico un'area liquida quando identifico una inefficienza vado a trovare l'ultima liquidità prima dell'inefficienza e l'ultima liquidità è l'ultimo livello dove io faccio il long ed è anche il livello che sancirà la fine o l'inizio di una distribuzione questo che vuol dire che come vedete qua in h1 se avessi fatto un long qui cosa che io avrei fatto se l'avessimo visto prima magari l'avremmo fatto anche in diretta prima della dopo un'inefficienza quando c'è un'area liquida e viene toccata per la prima volta quindi è vergine è il livello più forte dove fare un long se poi una volta che mi ha dato la reazione arriva qualcos'altro se viene rotto quel livello è il livello più forte per andare a fare lo short quindi è uno dei livelli più importanti da osservare sia nel primo tocco dopo l'inefficienza sia nel caso di rottura è un retest per poterlo sfruttare per andare short quindi io vado a sfruttare le aree liquide nelle aree di top evidenziando un range il range in questo caso è questo è la base questo è il top quindi finché restiamo in quest'area di range e non usciamo per me non prendo direzione tranne ai primi tocchi andiamo a vedere anche l'SMP come è messo e vediamo nell'area di top che cosa sta affrontando allora facciamo un'analisi di questa liquidità che sta affrontando ora settimanalmente poi ne abbiamo un'ultima qua sopra e poi abbiamo l'area di top assoluto come vedete qua c'è un allineamento di vari livelli quindi questa è molto forte e anche questa che è un po' frastagliata vi capiterà anche di non avere chiusure e aperture delle candele non ben allineate questi sono dei gap up in questo caso quindi dovete per forza partire dalla guardare dalla chiusura della prima e metterevi un po' più sopra dell'apertura dell'altra non è purtroppo il mercato non è sempre ben non ci dà dei livelli come qui perfetti allineati tutti e tre ok quindi in questo caso una volta identificato già un'area liquida vado a vedere sul daily se confluisce e qui sul daily ho purtroppo non molta pre-section allineata ho un daily qua ho un daily qua e ho un daily qua ok allora questa è una casistica come mi comporterei io farei il classico scaglionamento di ingressi un terzo potevo prenderlo qui un terzo qui un terzo qui probabilmente me ne aggancerà due me ne aggancerà uno ho tutte e tre e se poi mi dà conferma di una mega pesca come sta facendo in questo momento allora lì sono certo che queste aree daranno potenzialmente anche direzionalità per chi è un conservativo io sono in questo caso quando sono aree vergine le sfrutto anche al tocco vi consiglio a voi di non farlo all'inizio ma soprattutto backtestare come sto facendo io in questo momento di fare tanto backtesting e non portatelo mai sul reale se non avete fatto almeno 3-6 mesi sul demo in profitto e cercare di identificare queste liquidità come vedete questa daily qui non è vergine perché? perché è stato macchiato qui da queste candele qua questa non è vergine perché è stato macchiato quindi queste prenderle a tocco era pericoloso quello più vergine è ovviamente lui ma è stato testato ok? quindi i primi due dovete sempre osservarli perché non è è macchiato da altra price action che ci è entrata dentro questo invece è vergine ok andiamo a vedere in confluenza anche sull'H4 se avremmo avessimo trovato altri livelli liquidi e vi mostro che l'H4 qui era in confluenza quindi questo era doppiamente forte ok? qui non era in confluenza l'H4 con il daily che è un po' più basso quindi qui non c'era confluenza quindi il primo livello era più pericoloso il secondo era già più forte perché il daily e l'H4 sono uno dentro l'altro qui invece non è forte non è molto forte perché l'H4 è più alto della daily ecco perché qui ha reagito esattamente non al primo ma al secondo rettangolo dentro l'H4 perché c'era sia il daily che l'H4 quindi era forte in confluenza di time frame ok vediamo anche se c'era anche l'H1 e poi se vuoi facciamo rispondere facciamo qualche richiesta a qualcuno un po' qualche domanda vai ti faccio completare questo poi ti faccio anche io qualche domandina sì certo e l'H1 combinava anche con questo questo era perfetto avevamo tre livelli uno inside l'altro c'era il daily, l'H4 e l'H1 quindi questo era il livello perfetto oggi da sfruttare lo short sul S&P ok spero di essere stato chiaro se qualcuno ovviamente qualcosa non l'ha capita allora ti faccio qualche domandina di quelle che hanno fatto i ragazzi in chat ovviamente ti faccio i complimenti bello bello bravo davvero un bello studio allora mi chiedono funziona anche sui time frame bassi tipo un 15 minuti io la domanda la perfeziono e sono più cattivo e dico fin quanto in basso ti spingi nei time frame per andare a vedere questi livelli di liquidità nei grafici? allora io mi spingo anche su 5 minuti però più mi devo più mi abbasso e più voglio vedere confluenze per esempio qua ci siamo spinti fino all'H1 se io avessi voluto cercare l'ingresso qui dentro su 5 minuti magari non volendo entrare al tocco perché magari ho paura che mi vada contro su 5 minuti che avrei fatto? sarei andato a vedere sempre dietro nel passato da dove nasce il daily da dove nasce l'H4 da dove nasce non so se ti ho perso allora ragazzi non so se sono io Massimo ok ti avevo perso per un attimo ah ok allora stavo tornando indietro stavo provando col 5 minuti ma è troppo indietro nel tempo col 5 minuti non ce l'avrei fatta provo col 15 che ha chiesto Alex allora qui come vedete ci sono i colori ve li dico io il nero il rettangolo grigio scusate è il daily il blu è l'H4 l'H1 è il giallo e qui se io avesse voluto sfruttare il 15 minuti sì potevo sfruttarlo potevo sfruttare qua come vedi c'è un'area molto di molte candele molto insieme guarda quelle di evidenzio queste qua guardate quante candele sono rimaste a stazionare là dentro questa era un'area buona ce n'è uno scalino un po' più alto qui e poi c'è l'ultimo più alto quindi se io avesse voluto fare un 15 minuti qua dentro visto che avevo il daily avevo l'H4 avevo l'H1 e i 15 minuti sono più o meno vicini qua dentro questi erano buoni livelli da prendere questo short oggi qui quindi sì se ci sono confluenze sono buoni da sfruttare anche i time frame bassi ok allora ti faccio ancora io qualche domandina poi ragazzi se avete domande in chat questo è il momento allora Sebastiano chiede potresti ripetere come si individuano gli ingressi degli istituzionali in long o short per potersi accordare a queste operazioni e quando uscire allora io più che altro sempre colgo la domanda di Sebastiano sempre per metterci una ciliegina in più la domanda che ti faccio è una volta individuate queste aree quindi fatto questo lavoro credo di studio a monte quindi richiede comunque una lavorazione da far prima sui grafici qual è il vero cioè il trigger di ingresso è dettato da un cioè quando entri cioè entriamo nell'area di attenzione ok qual è il vero trigger che ti fa dire adesso compro metti ordini in pending entri al mercato c'hai un setup poi di un pattern particolare o ti basta entrare in quella fascia di prezzo allora quando sono vergini generalmente mi basta anche solo al primo tocco però voglio tante confluenze di tanti time frame come avete visto adesso come è successo per esempio con questo quest'area qua sotto c'era un settimanale il daily un po' più alto non avrei fatto l'ingresso al tocco ma qui dentro avrei cercato conformazioni cioè avrei cercato vi faccio vedere potenziali range come vi ho fatto vedere prima se riesco a identificare un'area che era aspettate l'abbiamo fatto sul NASDAQ prima appena riesco a identificare un'area che è in fase di range ok poniamo il caso che io non voglio entrare al tocco perché sono un conservativo quindi ho paura che mi vada contro però io qua per esempio il tocco l'avrei fatto perché era inside se volessi entrare in modo conservativo devo identificare quella che vi ho fatto vedere prima un'area liquida range cioè dopo un'inefficienza perché in un'area di top generalmente c'è un'area che viene spinta molto e poi c'è un rallentamento quindi un cambiamento di momentum c'è un'accelerazione e poi inizia a rallentare la forza propulsiva del prezzo identifico l'ultima area liquida quest'ultima area liquida se qui mi crea un rounding un test e spalle e ci si mette sopra quello è il mio ingresso a time frame bassi ok quindi qua sono sull'H1 se io mi fossi spinto fino a 15 minuti probabilmente non c'era neanche ancora l'ingresso e come vedete il 15 minuti era in confluenza esatta con il 15 minuti lo stesso livello liquido è in confluenza con l'H1 al primo tocco io entrerei long come avrei come ho detto prima ma poi in questo caso se mi crea conformazione che si mette sotto questo livello appena me lo ritesta io entro short quindi all'interno delle due aree non entri quindi tra le due aree di liquidità massimo e minimo nel mezzo nulla sì solo quando identifico il range più basso al primo tocco quando c'è un rallentamento di momentum di momentum quindi c'era una forza molto più spinta e poi rallenta l'impulso come in questo caso qui ha rallentato l'impulso rispetto a questo qui si creerà un'area liquida di bottom quell'area liquida di bottom al primo al primo tentativo di attacco del prezzo io lo sfrutto per un long speculativo al tocco poi siccome adesso qui siamo a 15 minuti ma noi stiamo cercando lo short di lungo perché all'origine noi siamo siamo andati dentro una resistenza quindi di origine stiamo cercando di shortarlo ok quindi a time frame bassi per trovare il trigger di ingresso per me serve che vada sotto questo livello qua e me lo ritesti per entrare short ok ok ultima domandina allora come si protegge delle possibili false rotture chiede Paolo poi non ti trattengo troppo Massimo non ti preoccupare ok quindi immagino strategie anche in termini di money management che ti tutelano dall'eventuale a lungo oltre queste aree di liquidità deduco esatto ok ok quindi è una gestione non più tecnica ma legata a un discorso di money management esatto come vi ho detto prima io spesso capitano le aree liquide che non sono allineate e scagliono vari ingressi ogni ingresso è un terzo di uno stop loss dell'1% quindi 0,33 al primo livello 0,33 al secondo livello 0,33 al terzo livello lo stop generalmente come lo come l'ho imposto se parliamo di aree liquide come il nasdaq che non ha altri massimi sopra la testa quindi mi devo affidare al passato vado a cercare altre aree liquide o POC ok per esempio vediamo i volumi di quest'area qua sopra io lo stop se devo fare un'operazione su un daily quindi un'operazione un po' più lunga lo stop l'avrei messo sopra quest'area qui quindi se avessi dovuto fare un ingresso qui per esempio al daily lo stop l'avrei messo qui e sarei andato come target a prendermi tutte le aree liquide successive tipo primo target qui poi quest'area liquida secondo target e poi punto all'ultimo target all'ultimo livello questo per uno short se penso che il nasdaq voglia invertire se invece mi voglio abbassare di time frame e voglio prendere per esempio una reazione del prezzo fino a questi livelli o fino a questi massimi mi abbasso di time frame e vado a cercare altre aree liquide nel passato per proteggere i miei stop ok ok ragazzi se avete ancora domande se non ne faccio ancora io una e non voglio abusare della bontà di massimo vabbè inizio io poi se qualcuno ha ancora domande le altre credo le abbiamo risolte tutte il discorso del volume profile l'hai già risposto quindi giustissimo ok domandina queste aree che vedo che tracci hai sulle shadow diciamo delle candele hai un un protocollo rigido o diciamo ci sono bordi di discrezionalità cioè del tipo cinque candele due candele tre shadow quattro cinque o più ce ne sono meglio è allora più ce ne sono ovviamente meglio è però la il primo punto che osservo sono i time frame più alti tutto ciò che succede a time frame più bassi dall h4 in giù li do sempre un po' meno valenza se non sono all'interno di un time frame alto cioè se non finisce se un un'area liquida h4 non finisce dentro un weekly o un mensile da solo sono più cavo da usarlo mentre due tre candele dipende da dove ci troviamo faccio un esempio se ci troviamo in una fase come questa qui ti faccio vedere che qua c'era area liquida sotto area liquida sopra sopra questa è un'area che se fosse venuto a toccarlo per me ha tanta valenza con tutte queste confuenze nonostante ci siano delle rotture ma quelle ci sono sempre perché i livelli vengono rotti e riconquistati però questo per esempio era un livello importantissimo per me con il Nasdaq tra l'altro questo qui se voi guardate probabilmente molti di voi dicono perché si è fermato qui che non c'è area liquida c'è l'area liquida c'è la più importante c'è il mensile c'è una delle più importanti questa area liquida qua ha salvato queste candele qui quando il Nasdaq arrivò a questa area liquidità liquidità fu salvata questa candela qua che ha fatto una pesca fu salvata da questi questa candela qui è stata salvata da questi se fosse venuto più giù il Nasdaq avrei usato questa liquidità qua sotto e questa qui per i prossimi ingressi long quindi per me i time frame più alti sono la legge poi se dentro i time frame più alti io ci trovo a confluenza anche a time frame più bassi tanto di cappello meglio ancora spero di a massimo sì si è stato chiarissimo assolutamente chiarissimo il POC il volume profile su TradingView è previsto solo nella versione premium no sono previste anche questo lo posso rispondere sono previste anche nelle altre versioni da qui a fianco guardate non è un problema la lista qua a fianco è gratuito c'è volume profile a intervallo fisso quindi sono gratis questi ovviamente richiede molta pratica quindi so che se vuoi far vedere il tuo canale youtube so che massimo è presente in rete e fa davvero un lavoro eccezionale quindi ragazzi ovvio che merita di essere seguito e trovate la registrazione di questo webinar ovviamente sul canale ufficiale Ticmeel siamo in casa a Ticmeel quindi trovate lì la registrazione di questo webinar nell'arco di 24 ore massimo ovviamente se vuoi dare un po' dei tuoi riferimenti per chi vuole approfondire e ti vuole contattare certo allora il mio canale youtube lo trovate qui basta che cercate massimo rea su youtube o trading massimo rea trading mi trovate quindi da qui mi vedrete fare le live un po' tre volte a settimana alcune volte sono ospite da davide biocchi alcune volte vado da altri colleghi quindi mi trovate spesso in giro sulla su youtube e tutti i riferimenti i link li trovate qui se volete visitare i miei canali il mio sito il mio canale discord telegram che sono tutti gratuiti quindi potete accedere a tutti quanti senza problemi ok perfetto ok spero di poterti riavere ancora insieme magari possiamo pensare di progettare qualcosa di simpatico me lo auguro perché sei molto bravo mi piace quello che fai lavori bene sei chiaro nelle spiegazioni ti faccio ancora i complimenti allora signori io direi di lasciare libero Massimo per la cena ok anche tu penso no? sì sono le 20.05 direi che la giornata è stata bella piena da stamane la giornata è stata anche la settimana direi è stata abbastanza impegnativa per tutti quindi c'è stata molta carne al fuoco benissimo ragazzi io ringrazio Massimo ringrazio tutti la registrazione nell'arco di un 24 48 ore ai canali ufficiali TICMIL io vi auguro a tutti buona serata e ancora grazie a Massimo grazie a te Salvatore grazie a TICMIL e a tutti i partecipati grazie a TICMIL grazie a TICMIL grazie a TICMIL